A Castel San Giovanni c'è una società sportiva, il Pedale Castellano, che dal 1982 rappresenta un punto di riferimento per decine di appassionati della due ruote. Tra loro ci sono anche tanti bambini e giovanissimi, che grazie agli insegnamenti dei loro istruttori, apprendono non solo come si sta su una bicicletta, ma anche quali sono le regole per stare correttamente in strada. L'arrivo della primavera rappresenta per questi appassionati il momento per aprire la stagione ciclistica e per presentare il calendario di attività, che sarà per il Pedale Castellano particolarmente impegnativo. Dopo la prima uscita di stagione, con una gara per esordienti allievi e poi il piazzamento dei giovanissimi al terzo posto durante il trofeo Paola Scotti, ora è il momento di pensare ai prossimi appuntamenti. Le gare che andremo a organizzare quest'anno saranno quelle del 13 di maggio, una gara di mountain bike per giovanissimi a Cannetto Pavese, dove abbiamo tra l'altro un campo adibito a scuola di mountain bike. Il 26 di maggio andiamo a organizzare una gara di mountain bike nella Francigena Cup, gara per amatori. L'8 luglio un'altra gara di mountain bike la organizziamo a Pancarana, in provincia di Pavia e poi abbiamo la classica, il Gran Premio Zanelli, il 29 di luglio a Castel San Giovanni. Molta attenzione anche a reclutamento di nuove giovani leve. Soprattutto perché i giovani sono il nostro futuro, quindi sono loro che poi saranno i ciclamatori oppure anche i campioni del futuro. Per chi fosse interessato può passare in negozio ciclimagnani per rilasciare il numero di telefono e per essere contattati.